Sono contenta di aver avuto questa occasione oggi di un confronto lungo amichevole con il primo ministro dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu. Noi ci conosciamo da tempo, ci stimiamo da tempo e ovviamente come voi sapete Israele rappresenta per l'Italia una nazione amica e un partner fondamentale in Medio Oriente e ovviamente a livello globale. Noi abbiamo oggi discusso delle nostre eccellenti relazioni bilaterali che si sono rafforzate negli ultimi tempi ma sulle quali riteniamo di poter insieme fare nei prossimi mesi molto di più. Noi vogliamo accrescere il livello della nostra cooperazione ovviamente nei settori più innovativi. Voi sapete che Israele sul piano della tecnologia è sicuramente una nazione che ha fatto enormi, che ha fatto dei percorsi straordinari e quindi ci sono temi come l'intelligenza artificiale, come la cibernetica, la cybersicurezza ma anche la tecnologia applicata all'agricoltura. Noi abbiamo parlato molto oggi ad esempio di fronte, voi sapete, alla crisi idrica che l'Italia sta vivendo. Abbiamo a questo proposito, il governo è già intervenuto ma Israele da questo punto di vista ha fatto negli anni un lavoro straordinario trasformando quella che era una possibile debolezza in un grande punto di forza, in un grande elemento di forza e credo che questo sia uno dei tanti settori sui quali la nostra cooperazione può aumentare. Abbiamo condiviso con il primo ministro Netanyahu la necessità di un nuovo incontro intergovernativo tra Italia e Israele, non se ne viene uno dal 2013, il prossimo dovrebbe svolgersi in Israele e vorremmo organizzarlo quanto prima.